Dai, Ergastolo! Ergastolo! Nessuno sconto di pena per il Nossento Segal, il nigeriano di 35 anni che il 30 gennaio del 2018 a Macerata se viziò e uccise Pamela Mastropietro, una ragazzina romana di 18 anni fuggita da una comunità di recupero. I giudici della Cassazione hanno confermato la condanna per stupro inflitta dal Tribunale di Perugia in un appello bis un anno fa e quindi per l'uomo si conferma l'Ergastolo a causa dell'aggravante della violenza sessuale. Osegal era uno spacciatore di droga, agganciò Pamela in un parchetto pubblico, le promise una dose e la portò a casa con sé. Lì abusò di lei e poi la massacrò. Per cercare di far sparire le tracce sezionò il corpo e lo mise in due valigie che abbandonò al lato di una strada. Ha sempre negato l'omicidio e la violenza e se per il primo c'era stato un giudizio definitivo di condanna per lo stupro la Cassazione aveva già rigettato una prima sentenza di appello. Per la seconda volta i giudici ermellini hanno dovuto valutare la legittimità del secondo grado che nuovamente aveva riconosciuto colpevole Osegal. E così è stato, ponendo la parola fine all'intera vicenda giudiziaria. Per la madre di Pamela, da sempre convinta che l'assassino di sua figlia non abbia agito da solo, questo è soltanto un primo capitolo chiuso. E ci devi marcire in quel carcere, visto che non ti sei pentito per niente. Devi fare gli altri nomi e adesso combatterò per trovare i tuoi complici. Fanno del male, faranno ancora del male, visto che fanno parte di un'organizzazione criminale.